Parliamo ora di quattro amiche, due di loro ipovedenti che hanno intrapreso il cammino dei Briganti, un sentiero a lunga percorrenza ad Anello che si sviluppa tra Abruzzo e Lazio. Luca Bindi. Eva Bonekker, Angela Caldini, Irene Matassoni, Toni Olli Gemma. Ecco la storia di quattro amiche, Eva, Irene, Angela e Gemma, quest'ultime due ipovedenti che hanno deciso di intraprendere a fine maggio il cammino dei Briganti, percorso in mezzo ai boschi dell'Appennino tra Abruzzo e Lazio, un anello di 100 chilometri che le quattro ragazze hanno attraversato in cinque giorni con tappe di venti. Per amore della montagna, della natura, del camminare, viaggio che ha regalato emozioni e ricordi. C'è una buona guida, soprattutto amica che ti conosce così, per me il non vedere non è un problema. Perché anche per me il camminare è libertà, spensieratezza, divertimento. Mi sono rimaste due cose, il lato umano, quindi la parte veramente di scambio, le risate, la disponibilità, eccetera, e poi tutta la parte dell'esperienza in natura. Dormivamo in bed and breakfast, passavamo in borghi ormai spopolati, quindi il nostro passaggio era un evento eccezionale per i vecchietti alle finestre e alle porte. Il tempo scorre veloce e rimangono pochi secondi per chiudere il servizio con un po' di simpatia. All'etapa finale c'era Angela attaccata al mio zaino con la sua fettuccia e le persone del posto ci hanno detto, cioè sentivi che dicevano poverina, è stanca, si è attaccata, ma è perché proprio non sapevano che non ci vedeva. Grazie. Grazie.